amici di planet spin benvenuti sul canale benvenuti a questo nuovo video oggi in questo nuovo appuntamento diamo nuova vita ad un video che tra i primi pubblicati sul canale youtube di planet spin ed è uno dei video che da sempre ottiene più visita infatti andando a vedere un po' nello storico risulta tra tra quelli che hanno ricevuto oltre 100.000 visualizzazioni è un video che ha realizzato ha girato un mio amico che approfitto per salutarlo michele in cui riprende claudio che un po lo zio di tutti noi zio claudio alle prese con un alletterato un bel alletterato facendo spinning in scogliera in questo spot dove è stato girato questo video è prevista una uscita in pesca prossimamente e quindi vi faremo conoscere anche questo sport per chi non lo conoscesse perché uno sport molto noto e niente approfitto di questo video per ripubblicare questo video e dargli magari nuova linfa ringrazio a tutti per la visione seguite sempre i nostri video sul canale planet spin iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e come sempre vi ringrazio e lascio un saluto a tutti gli amici di planet spin buona visione iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.